ciao amici ciao amiche come aumentare il potenziale di seduzione questo video per rispondere ad abis che mi segue su youtube ora se tu sei interagisci con una ragazza ma potrebbe essere anche di una donna verso un uomo che qualcosa diciamo ti concede nel senso che ogni tanto vi vedete se le fai qualche sorpresa magari ti dà un bacio a stampo insomma qualcosa fa ma non va più oltre magari tu ci provi e lei si tira indietro può anche c'è anche la versione diciamo della femmina verso il maschio perché ci sono anche alcuni maschi che di fatto non si fanno avanti comunque che cosa bisogna fare in queste circostanze per aumentare il potenziale di seduzione per aumentare il potenziale di seduzione e tu un po ne hai perché altrimenti questa persona non accetterebbe di vederti neanche per un caffè neanche per un'uscita neanche per farsi dare questo bacio a stampo allora devi praticamente continuare a mantenere questo tran tran senza esagerare fare un po di push pull un po di tire molla diciamo vederla ma nel momento in cui la vedi non ci provi assolutamente non fai assolutamente niente non cerchi di fare assolutamente niente nel momento in cui lei manifestasse qualche intenzione di avvicinarsi tu mantieni le distanze ti rigidisci ma metti in atto il contrario di quello che normalmente viene suggerito cioè di ricalcare no metti in atto una comunicazione difensiva stai sulle difensive quando lei si avvicina tende ad andare indietro metti in atto tutto questo tipo di comunicazione in modo tale che la sua parte emotiva non tanto la sua parte logica anche la parte logica lo capisce ma quanto la sua parte emotiva capisce che c'è qualcosa che la sta che ti sta coinvolgendo che ti stai allontanando che c'è qualcosa che non va e lo attribuirà lei non può attribuirlo a te e quindi sarà incuriosita magari ti vorrà vedere un'altra volta anche in questa seconda volta manterrai sempre di più le distanze eccetera eccetera e vedrai cosa fa lei nel momento in cui vedi che lei si avvicina tu tieni tiri 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 normalmente sono sei sette volte sei sette uscite caffè qualcosa del genere mai superare le dieci volte al limite ne fai nove e alla dieta la decima invece fai un avance diretta che va molto oltre il famoso bacio stampo e vedrai che in quell'occasione cederà cederà perché resta diciamo non se l'aspetta destrutture completamente il suo schema va a interrompere completamente il suo schema quindi in quel punto lì non ha più difese ed è praticamente evidente che che cederà insomma bene per questo video è tutto ti do appuntamento al prossimo se ti iscrivi al canale anche tu come abis avrai la possibilità di fare una domanda e ricevere un video di risposte inoltre se questo video ti è piaciuto metti un commento un like al video un mi piace e condividilo con tutti i tuoi amici ciao